Ciao a tutti, oggi vi devo svelare il titolo di un libro incredibile, cioè il libro della vita, cioè tutti gli altri sono nessuno, che ho scoperto passeggiando per la biblioteca, curiosando qua e là, l'ho visto, ho detto deve essere mio e l'ho divorato in una sera ed è un capolavoro. Il libro in questione è Andy Warhol, era un coatto, vivere e capire il trash, di Tommaso Labranca, edizione Castelvecchi. La Castelvecchi, negli anni 90, primi 2000, pubblicava un sacco di saggi fighissimi, tra cui anche, ve ne ho già parlato nella rubrica Libri Dimenticati, Lasciate che i bimbi dei Luther Blissett, che purtroppo per questioni che vi ho detto è introvabile, io l'ho letto in biblioteca, ma non dovrebbe essere neanche lì, però stiamo zitti. Vabbè, andate a vedere il video se siete curiosi. Comunque, i saggi Castelvecchi sono veramente fighi, e Tommaso Labranca, è un intellettuale molto atipico, che ha basato gran parte dei suoi studi sulle sottoculture e sulla cultura trash, appunto, ed è una persona simpaticissima. Io questo libro l'ho adorato alla follia, perché a parte che è scaldalosamente corto, infatti io ho arrivato alla fine e ho detto, perché non era di mille pagine questo libro? Perché ne ha 110. E l'ho letto veramente in una sera, anche perché ci sono tantissime fotografie, come potete vedere, fotografie che servono alla tesi del vivere e il capire il trash. Perché in sostanza questo qua, che è un saggio, ma vi assicuro che riderete dall'inizio alla fine, ma anche riflettendo molto spesso. Anzi, è un saggio intelligentissimo, scritto su un argomento che personalmente adoro e con un piglio fortemente ironico, ma che allo stesso tempo non prende in giro ciò che racconta, ma davano proprio delle basi di studio sincero e approfondito della materia in questione. Il saggio è appunto un saggio sul trash, sulla definizione di trash e sul come comportarci di fronte al trash. Il modo in cui è affrontato il trash è talmente cristallino e semplice, c'è anche da dire che è un saggio del 94, quindi Tommaso Labranca non ha parlato del trash contemporaneo, come ad esempio YouTube, come ad esempio i programmi televisivi di un certo tipo, non ha parlato di certi determinati tipi di musica che sono arrivati dopo. Quindi il trash su cui è basato questo saggio è principalmente il trash pre-primi anni 90, quindi soprattutto focalizzato sugli anni 70-80. Però secondo me la formula matematica che lui riesce a sviluppare per comprendere il trash è valida anche oggi. Infatti io ho fatto un sacco di prove mentali e funziona per tutti, perché l'idea, la tesi di questo libro è fantastica. Allora dice Tommaso Labranca, il trash è una cosa innata nell'essere umano, tutti sono trash. Però dice anche il trash è partito dall'Occidente, dalle popolazioni caucasiche, no? Per quanto riguarda uno stile di vita legato sin da subito all'essenza del benessere, alla concezione di borghesia. Tutte le altre culture che hanno abbracciato la fascinazione per l'Occidente hanno anche abbracciato il trash e hanno creato il proprio trash. Ma in verità anche in culture che hanno approfondito la questione trash successivamente era già innato e il trash è sepolto e poi è stato liberato dall'incontro delle altre culture, quindi alla globalizzazione, se vogliamo. Vi sarete persi e adesso vi spiego meglio. Perché Tommaso Labranca ci spiega esattamente cos'è il trash in un modo geniale. Allora, trash è tutto ciò che concerne un'emulazione, ovvero un tentativo di emulare qualcos'altro. Quindi limitazione, ok? Che non è il falso, perché lui parla anche di falsi ma ci arriviamo. Quindi ad esempio un libro, un film importante, o comunque che può essere sia di ottimo valore che di scarso valore, ma è un'opera basata su un'intuizione che è proprio il capo che porta avanti tanti cloni, il capo non è trash ma può sviluppare tanti cloni trash. Cioè è una macchina del trash pur non essendo prodotto trash. Pensiamo, non lo so, il nome che mi viene in mente è Twilight. Twilight, romanzo di Stefani Maier, no? Non potrebbe essere considerato trash in quanto è stato un libro che ha generato una marcia di cloni che continuano tuttora sotto varie differenze, se vogliamo. È vero che Twilight è trash perché comunque da questo punto di vista si ispira alla Bella la Bestia, però a livello contemporaneo non è trash in quanto porta la concezione fantasy, urban fantasy, nel mercato letterario. E quindi sono trash tutte le intenzioni di altri autori di copiare Twilight. Quindi seguitemi. Quindi ad esempio Obsidian di Jennifer and Arammentrout è trash perché è un clone brutto di Twilight. Poi veniamo anche alla concezione di brutto. Ma anche After, che sembra non centrare nulla con Twilight, segue comunque lo stilema ragazzo pericoloso e ragazza innocente. Quindi è trash perché c'è un'emulazione di struttura che poi viene sviluppata in un altro modo. Quindi il trash è pura emulazione di un modello. Per fare riferimento, un esempio pratico a questa cosa, lui fa riferimento a Madonna. Madonna la pop star. E dice Madonna non è trash, o meglio, è complesso l'argomento. Madonna non è trash perché inventa degli stilemi e ha dei valori forti alla base. Madonna non fa semplicemente musica. Madonna è un universo. Madonna è le sue canzoni con i messaggi e dei valori precisi. E uno stile preciso. Quindi Madonna incarna valori come la libertà d'espressione, la libertà sessuale, il girl power, la vicinanza alle minoranze. Questi sono i valori della pop star Madonna. La cosa che rende vincente Madonna è il suo mutare nel tempo. Quindi lei di album in album cambia stile, sia nelle canzoni che stile outfit, capelli, cambia tutto. Però il problema è che negli anni 80, dato che Madonna era la pop star più famosa, c'erano un sacco di cloni. Altre cantantuccole che volevano essere come lei, senza averne intuizioni, talento e senza approfondire il modello di riferimento. Perché il modello di riferimento c'era, ma non era approfondito in modo da farne un clone convincente. Perché Madonna, cambiando negli anni, da Like a Virgin con Il Pizzo e Merletti, è passata a Like a Prayer con un'impostazione molto più matura e totalmente diversa, no? Il problema è che nel clone di Madonna il riferimento è subito a Like a Virgin, ovvero un riferimento più vecchio e quindi già superato. Perché? Perché Madonna nell'immaginario agli 80 era la cantante che metteva i crocifissi, si vestiva di pizzo e quindi quella che vuole emulare inevitabilmente si riflette nel modello più famoso di Madonna. Diventando una copia trash, perché mancano originalità, talento e mancano anche le basi culturali, perché qua rifà riferimento a una cantante napoletana che imita una pop star americana, no? C'è un abisso culturale alla base, no? Perché comunque anziché puntare sulla cultura del proprio paese, si cerca di importare una cultura altra imitandola, ma senza il dovuto approfondimento. Si fa riferimento anche a Giovanotti, Giovanotti anni 80, quando era rapper, che anche in questo caso è trash perché tenta di emulare i rapper americani, i rapper americani, afroamericani, che sfruttavano questo genere musicale per parlare dei disagi nel ghetto, delle ingiustizie, del razzismo, della droga, quindi di problemi che loro sentivano. Invece Giovanotti, vissuto in un ambiente borghese a Roma, cerca di emularli in quanto la musica piace, ma non avendo il contesto culturale per poter fare quel tipo di musica, ma cercando di emulare un modello, diventa inevitabilmente trash, perché non è il modello potenziato al 100%. È molto complesso, ma è molto figo. Infatti, Tommaso Labranca ci dà anche una formula matematica per capire il trash, e qua vediamo anche Emilio Fede. Sì, perché lui dice che Emilio Fede è trash, in quanto come anchorman cerca di imitare gli anchorman della CNN, o comunque giornalisti americani di punta, come Oprah, solo che Oprah può invitare al suo show Madonna, e Madonna risponde di sì. Emilio Fede, se chiamasse Madonna, lei gli direbbe, ma anche no. Quindi lui è costretto ad invitare, ad esempio, Anna Tatangelo. Capito? È quello lo spirito. C'è il tentativo di emulare qualcuno che è troppo in alto, anziché produrre qualcosa di nuovo. Iniziamo. Io vi voglio leggere la formula matematica del trash. La formula matematica del trash è KSR uguale T, dove K è la costante, la costante che determina tutto ciò che porta al trash, nel tentativo di emulazione. Quindi intenzione, povertà di mezzi, incapacità, contaminazione, incongruità, massimalismo e ritardo. S è lo scopo, cioè l'emulazione del modello. R è il risultato e T è il trash. Solo che se fosse una formula chiara, il rischio sarebbe di fare in modo di non seguire questa formula in modo da eliminare il trash. Solo che c'è la K che è costante ed è mutevole. Infatti il trash si nasconde in ogni aspetto della vita. Dalla politica, infatti si fa riferimento a un politico che non mi ricordo, scusate, eccolo qua, che è Mariotto Segni, che tenta di emulare Bill Clinton nella foto di famiglia. Solo che Bill Clinton sembra effettivamente il capo di tutto in questa foto qua, no? Invece il politico nostrano diciamo che questa foto sembra più una foto da sagra della salsiccia, diciamo, perché non ci sono quei valori. Si tenta di emulare dei valori americani in un contesto in cui i valori americani non sono così condivisi ma importati. E quindi è molto figo. Ed è chiaro questa accezione, questa regola matematica del trash. Però lui dice, Tommaso Labranca dice anche una cosa molto triste, ovvero dice che chi è cosciente del trash non è trash. Cioè, io che sto parlando del trash non posso essere trash. Perché in quel caso sarei o un giovane salmone del trash, vengono definiti così coloro che sanno di di fruire del trash, ma il trash piace. Cioè, il giovane salmone del trash è quello che guarda uomini e donne, sa che fa schifo, però lo guarda e gli piace. Ma non con ironia, gli piace proprio. Invece il il trashista, diciamo, è colui che anche con una certa eronia adora quel tipo. È più il camp, ecco. Lui fa riferimento anche a due altri pilastri del tra virgolette cattivo gusto, che sono il kitsch e il camp. Il kitsch, in verità, è un fallimento nel raggiungere qualcosa di aulico. ovvero kitsch è il tentativo di eliminare ogni cosa trash da un prodotto, no? E cercare di renderlo aulico, ma esagerando in questo modo si raggiunge il kitsch. Quindi un'opera fortemente melodrammatica diventa kitsch se viene aggiunta una buona dose, una mole gigantesca di pornografia del dolore, se vogliamo. Qua si fa riferimento in modo al kitsch con la distribuzione di prodotti stranieri, ad esempio le telenovela e gli anime, che in Italia le sigle vengono molto più edulcorate con delle canzoni italiane. Quello è kitsch, perché è un tentativo di cambiare il modello culturale di un prodotto importato, renderlo accessibile al mercato italiano. infatti le sigle degli anime giapponesi vengono cambiate e vengono cantate da Cristina D'Avena, no? Il fatto di cambiare la sigla è kitsch, no? Perché è un tentativo di italianizzare una cosa che è giapponese, quindi anche il cambio dei nomi è kitsch. Cioè, tipo, mi ricordo che c'era in Amtaro il personaggio della tizia che si chiamava Camilla. È kitsch, perché non è Camilla, sarà Yukio, Uyuko, Yoko, eccetera. oppure anche nelle telonovela fa riferimento al fatto che le sigle molto spesso vengono cambiate, vengono cantate in italiano, si usano dei font più carini. È il tentativo di abbellire qualcosa che a livello culturale nel paese in cui è importato viene definito brutto, mentre nel paese d'origine è considerato apprezzabile, ad esempio. E questo è il kitsch. Il camp, invece, per farla in breve, il camp è il cinema di John Waters, per dire il camp è io faccio del trash cosciente di fare trash perché adoro l'estetica trash. Quello è il camp, no? Quindi è il trash conscio, che però lui dice che è meno interessante, perché colui che fa trash non sa di fare trash, ma è semplicemente affascinato da un modello superiore che è ispiratore, ma non ha il talento, le basi, o quantomeno ha le altre due, ma non ha i soldi per realizzare un progetto e quindi produce trash. Ed è fighissimo, tutto questo contento in cento pagine con un sacco di riferimenti culturali meravigliosi, meravigliosi. Fa riferimento anche a Little Tony che cerca di cerca di imitare Elvis per una sorta di vedovanza, in verità, perché Little Tony emula Elvis perché Elvis è morto, era il suo idolo, allora lui dice io divento lui, cerco di diventare come lui perché mi mancano. Ci sono tanti aspetti di vivere il trash ed è figo quello che viene detto in questo libro. La cultura pop, la cultura bassa, ci sono un sacco di riferimenti fighi. L'altra roba interessante è che lui fa riferimento al programma televisivo canzonissima di Raffaella Carrà degli anni 70 in cui ci dice che viene definito oggi trash in quanto negli anni 70 era accettabile adesso è troppo, si vede che è un prodotto del suo tempo e invece è sbagliato perché lui ci dice ma allora perché è un film di Bertolucci o Pasolini degli stessi anni non è trash oggi e il motivo è che il trash è immanente ciò che è trash è trash ora e lo sarà sempre e lo è sempre stato una cosa assurda perché comunque il programma canzonissima è un'emulazione di un format che fa riferimento alle edizioni precedente aggiornate al tempo attuale ma sempre riferimento a edizioni precedenti o quantomeno a format americani stranieri e quindi è trash perché è una banalizzazione del format originale o un aggiornamento del format originale mentre il film di Bertolucci o Pasolini degli anni 70 è bello anche oggi perché non c'è un tentativo di emulazione c'è un progetto che parte dalla base ed è figo fa riflettere tantissimo questo libro mi è piaciuto da morire vi lascio il link qua sotto Amazon per comprarlo perché dovete oppure lo trovate in biblioteca tranquillamente spettacolare spettacolare trash is life e niente poi c'è un riferimento cattivissimo e sono anche quasi d'accordo sui borriosi intellettuali che condannano il trash quando il trash è parte della cultura e quindi è giusto studiarlo anche a livello di a un livello più profondo e quindi sì ho parlato per 17 minuti di questo libro ne parlerei per mezz'ora è troppo figo è troppo figo ve lo straconsiglio fatemi sapere se lo conoscevate Tommaso Labranca ha scritto anche un libro sul fatto che tutti siamo brianzoli io voglio leggerlo perché sono brianzolo ma purtroppo è fuori catalogo se ce l'avete dimmi dove posso trovarlo io vi saluto un bacione e alla prossima ciao ciao